Con quest'opera, 100% in acrilico su tela, intitolata Inizio ed esposta presso la nostra galleria a corsi arte, Daniela Troina Magri, dottore con master in arteterapia, vuole significare l'apertura, ossia l'inizio di un principio di liberazione del sé attraverso la mediazione dell'arte. La dottoressa, sperimentando su un campione di persone di età diverse la capacità terapeutica ed espressiva del loro lavoro artistico, ha potuto dimostrare con efficacia il grande potere risanante dell'arte stessa, nelle diverse applicazioni ai casi. A questo proposito, anche il barco aperto sulle arti tessili proposto dall'artista, come le stampe su full art, che qui vediamo riprodotte dalla matrice originale, stanno a significare il rapporto intrinseco tra lo spirito e il corpo, dove ascoltare il proprio corpo e lasciarlo parlare per immagini, indossando le proprie stesse emozioni, produce energia positiva e rafforzamento ristonante della propria identità. Figlia d'arte, Serena Calecca, critica, fisico e curatore.